Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale youtube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo dei deliziosi involtini freddi di melanzane, un piatto fresco, gustoso, delicato e che può essere preparato con largo anticipo. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per prima cosa dobbiamo affettare le melanzane. Andremo a spennellare le melanzane con dell'olio al basilico. Qui nella ciotolina vedete olio extravergine di oliva, aggiungiamo subito il sale e il basilico essiccato e tritato. Con un cucchiaino miscelo. A questo punto affettiamo la melanzana. Io spunto entrambe le estremità. E soltanto da un lato la spennelliamo con l'olio al basilico. Solo da un lato, così. Ripeto la stessa cosa per le altre melanzane. Ho messo sul gas una padella, ora è ben calda e comincio a cuocere le melanzane. Le lascerò cuocere due minuti per lato. Due minuti sono trascorsi e ora le giriamo. Due minuti anche da questo lato e poi mettiamo le melanzane sul piatto. E procediamo con la cottura delle altre. Ho terminato di cuocere le melanzane e le ho anche lasciate raffreddare. Nel frattempo per il ripieno degli involtini ho preparato del formaggio fresco spalmabile, dello stracchino, della bresaola e dell'arrosto di pollo. Una fetta di melanzane. Metto il formaggio spalmabile. Una fetta di bresaola e poi arrotolo semplicemente. Il mio primo involtino è pronto e lo dispongo su un piatto. Ora prendiamo un'altra fetta e questa volta mettiamo stracchino e arrosto di pollo. e procediamo allo stesso modo arrotolando. E anche questo involtino è pronto. Proseguo così per la preparazione di tutti gli altri. Gli involtini sono pronti e adesso possiamo preparare un piatto da portata. Qui vedete della rucola e dei pomodorini. Io metto la rucola sulla base del piatto. Grazie. 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 E ora diamo un tocco di colore con dei pomodorini semplicemente tagliati a metà. davvero niente di più semplice e fresco un piatto che può essere preparato in anticipo e gustato a nostro piacere bene anche per oggi è tutto io spero che questi involtini di melanzane siano stati di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video un grande abbraccio a tutti voi da Rita grazie a tutti